Il pubblico ministero, Laura Reale, conferirà lunedì l'incarico al medico legale Antonello Cirnelli di eseguire l'autopsia sul corpo del neonato di Vittorio Veneto, morto una decina di minuti dopo essere venuto alla luce con un taglio cesareo d'urgenza. In giornata erano previste le dimissioni della mamma, 36enne del piccolo, che era ricoverata all'ospedale di Costa. Accanto a lei è sempre rimasto il compagno 31enne, che ha presentato ai carabinieri un esposto chiedendo che venga fatta chiarezza sulle cause della morte del piccolo Domenico. Questo è il nome scelto per il neonato. Mercoledì mattina, al personale del reparto di ostetricia, dove era attesa per un nuovo monitoraggio, la futura mamma aveva detto che il piccolo fin dalla sera prima si muoveva meno del solito. Ben presto è stato chiaro che il bambino era in sofferenza respiratoria. A mezzogiorno il cesareo, presenti tutti i medici di ostetricia, che è tentato per lunghi minuti di rianimarlo senza successo. L'ipotesi più probabile è che il piccolo abbia innalato liquido amniotico e meconio e che i polmoni siano rimasti ostruiti. Il medico legale potrebbe eseguire già lunedì in giornata l'esame autoptico. La stessa ULSA 8 ha disposto un'inchiesta interna, mettendo a disposizione dei carabinieri la documentazione sanitaria del piccolo, posta sotto sequestro.